con la lista di riparoli, ma avevo preso un impegno che sarebbe stato quello di ricandidarmi contemporaneamente all'Europeo. Ho avuto la mia esperienza al Parlamento Europeo, conto di ritornare a farlo, però avevo assunto l'impegno di candidarmi con la lista di riparoli. Questo impegno l'ho ribadito soltanto qualche settimana fa, ero nella sede del mio partito, ho detto, sì è vero, parto per le europee, ma mi candiderò anche alle elezioni amministrative con la lista di riparoli, con il gruppo che si sta formando, con un gruppo che va al di là della lista, perché poi un gruppo non è 16 candidati, è 16 candidati più tutta una serie di persone che lavorano con i candidati, che lavorano con l'amministrazione, che magari saranno anche attivi sul territorio comunale in veste magari di proposte, di progetti, di comitati nell'ambito di quell'attività associativa o di sviluppo di attività associativa di cui parlavo prima. Però quando ho detto che mi sarei candidato non avevo detto il ruolo. Non è un mistero che cinque anni fa non avevamo alcuna possibilità di vincere le elezioni comunali per tutto quello che è successo e per il quale ho già chiesto scusa alla città, perché la responsabilità politica è esclusivamente mia. Ma alla luce di quello, proprio cinque anni fa, qualcuno ha lavorato perché il gruppo riparoli si presentasse lo stesso, si proponesse con un candidato sindaco. La lista adesso è di 16, mi sembra adesso è cambiato. 16 eroi si sono candidati per la lista. Un ero un po' più eroe dei 16, il 17esimo. Zucco Chinà si è candidato a sindaco di quella lista. E quel gruppo è stato rappresentato in consiglio comunale in questi cinque anni grazie al lavoro dello stesso Zucco Chinà, eletto consigliere, e di Aldo Rimondo, consigliere comunale anche lui. E quel gruppo ha fatto attività d'opposizione, che poi è attività di rappresentanza, rappresentava quel gruppo di elettori, l'esigenza e la voglia di rappresentare anche un programma che era stato allora preparato appunto dal consigliere Zucco e dal consigliere Rimondo come avevano lavorato allora. E abbiamo lavorato al programma, abbiamo riflettuto e io ho avuto modo di dire, l'ho detto spesso ai giornalisti, ancora oggi, che qualcuno mi chiamavo, dovevo sapere qual era il mio pensiero, che secondo me sarebbe stato giusto, visto che in quel momento con quegli eroi, consigliere Zucco, si è rappresentato sindaco della città, adesso che obiettivamente il tempo è un po' cambiato e che l'aria è un po' diversa, per non dire che c'è odore di vittoria. Amministrare la città non necessariamente è una vittoria. ma ho detto, guardate, visto che si è candidato l'altra volta, ma lo dico seriamente, Martino lo sa perché tante volte, ancora oggi, l'ho cercato ma non mi ha risposto al telefono, ho detto che sarebbe giusto che lo facesse lui. Io penso che per ciascuno di voi valga la regola che nella vita si hanno delle relazioni perché le si devono avere e si hanno delle relazioni perché si ha il piacere di averle. Il gruppo Riparolmo è un gruppo con il quale io non devo avere delle relazioni, con il quale ho piacere di avere delle relazioni perché si è anche amici nella vita, oltre che nell'aver condiviso un percorso amministrativo. E quindi ne abbiamo parlato, abbiamo avuto modo più volte di confrontarci e non me ne vogliano gli altri. Però è evidente che con Aldo Raimondo e con Martino Zucco ci sia un rapporto che deriva dagli anni in cui abbiamo amministrato, dai momenti in cui abbiamo condiviso. Molti belli, qualcuno vi devo dire, ce lo saremmo anche risparmiato. E quindi a loro non posso dire di no. E quando con una certa insistenza mi è stato chiesto di essere io il candidato sindaco, io ho provato. Ci ho provato anche oggi, non mi ha risposto al telefono. Però per quanto in tanti mi abbiano fatto pressione, in queste settimane, in questi mesi, tanti cittadini mi hanno detto allora si ripresenta, ma allora è sicuro che... Lo so, tutti hanno diritto di parole, tutti hanno diritto di essere ascoltati. A queste due persone però devo qualcosa di più. Quindi se a qualche cittadino ho detto no, non ci penso neppure, ho la testa soltanto in Europa, a loro non ho potuto rispondere così. Quindi è evidente anche il fatto che siamo qui questa sera e per dire che a loro non posso dire no, dal momento che mi hanno chiesto di guidare la lista di Riperolium come candidato sindaco, a loro ho detto sì e quindi questo sì lo ufficializziamo, così ci togliamo il dubbio.